Sicuramente con i propositi di ripartire di squadra come abbiamo iniziato il campionato e personali di fare sicuramente più gol. Tutte le volte ci sono state sempre due punte perché comunque anche l'ultima partita eravamo io e Mungo che comunque giocava da seconda punta. Quindi l'appoggio c'è sempre. Bisogna cercare di arrivare con più costanza al tiro in porta. Penso che all'inizio ci veniva molto bene, nell'ultimo mese ci è riuscito meno ma penso che sia una cosa di passaggio. La spiegazione è che per dire anche l'ultima partita abbiamo affrontato una squadra molto chiusa, l'ho detto anche un'altra volta. Dopo l'avvio che abbiamo fatto tutte le squadre quando sono arrivate contro di noi ci hanno temuto e quindi ci hanno aspettato sempre bassi. E arrivare alla conclusione contro una squadra schierata non è una cosa semplice. Quindi bisogna trovare le soluzioni e le prove dei contesti. Sicuramente sarà una partita molto dura e molto tosta e quindi bisogna affrontarla nella maniera giusta e concentrarsi sui nostri punti forti che sono l'aggressività e ritornare a fare le partite che facevamo all'inizio del campionato. In quel modo non dobbiamo avere paura di nessuno. Alcuni club che sarebbero interessati a te quindi ti chiede direttamente cosa c'è di vero e se c'è qualcosa di vero. Io ora come ora voglio solo pensare a sabato, non voglio pensare a altro.